L'anniversario del rapimento di padre Maccalli nel Niger E' stata lunga ma adesso sono tornato e grande la gioia di poter riabbacciare tante persone, tanti amici e soprattutto adesso poter riallacciare quei contatti con la mia gente telefonando loro. E' uno scambio di gioia ma al tempo stesso la gioia non è mai da sola, è sempre intrecciata a sofferenza, a pene e la gente mi comunica anche come è contenta, andanzato per la mia liberazione ma mi fanno anche parte del loro dolore, della loro sofferenza. E particolarmente mi dicono ecco da quando sei partito hanno chiuso tutte le scuole, la scuola di Gulà, la scuola della missione. Adesso è una base di soldati per la sicurezza, i nostri figli abbiamo dovuto cercare altre soluzioni, qualcuno è potuto andare a Maccalondi, Torodi, anche a Niamè, altri sono rimasti a casa. Questo fa piangere il mio cuore perché avevamo molto insistito per dare questa educazione e formazione ai bambini, ai ragazzi e adesso tutto cade per questa insicurezza. Ho potuto anche parlare, telefonare all'amico confratello Mauro e anche lui mi ha rincuorato dicendomi come lui stesso e la dioce si sono impegnati per sostenere la gente di Bomoanga e ha lanciato anche questo progetto di aiuto per i ragazzi e i giovani e le loro famiglie che hanno bisogno di continuare la formazione, la scuola. E quest'anno proprio ecco hanno preso a carico le attività di sostegno per i ragazzi e le famiglie in difficoltà. Perché, come voi sapete, tutto pesa sulle spalle della gente, dei genitori, la scolarità. Adesso non sono più in famiglia, devo trovare un tutore, il viaggio, sono tutte spese in più che influiscono e grazie a quanti benefattori amici ci date una mano per dare questo futuro ai nostri ragazzi. Grazie.